Ma la suerte ha hecho que no tengan un diploma Alma libre viajo con mi mochila por todo el mundo Mi cultura bunda aprendo cada segundo Apaga la tele, prende la mente, aleja que miente siempre Manzo como paloma y asunto como serpiente Soy multicultural Soy multicultural Soy multicultural Come prima cosa ci assicuriamo che tutti i sensori TPMS funzionino Usando questo strumento partiamo dall'anteriore sinistro E poi in senso orario controlliamo tutti gli altri Una volta che ci siamo assicurati che tutti e quattro i sensori funzionano Andiamo all'interno dell'abitacolo della vettura E dal display facciamo il reset delle pressioni dei pneumatici Una volta saliti in macchina Chiudiamo le portiere Azioniamo il freno a mano E giriamo il quadro degli strumenti Tramite i comandi che si trovano sul volante Utilizzando la rotellina Cerchiamo il menu Della pressione pneumatici Che si trova sul display di dentro Una volta selezionato il menu pressione pneumatici Premiamo sulla rotellina E andiamo a selezionare il tipo di pneumatici montati Che in questo caso è l'inverno Sul menu compare un messaggio Che dice che bisogna guidare Oltre 25 km orari Per un po' di tempo Fino a quando non si visualizzano le pressioni dei pneumatici MULTICULTURAL Sui MULTICULTURAL Sui MULTICULTURAL Grazie a tutti